Un nuovo percorso ciclopedonale va ad arricchire l'Oasila Valle di Spinetoli. L'ex pista per le mountain bike, a dire il vero pericolosa e poco utilizzata, è stata trasformata in un ampio e lungo iter per pedoni e ciclisti, privo peraltro di barriere architettoniche. Per noi è stato importantissimo in quanto ha unito le due piste che sono qui sul territorio. La pista che sta lì a ridosso dell'asta fluviale del fiume Tronto e l'altra che percorre l'intero territorio del paese, la nostra pista ciclaba è anche questa realizzata di recente, che parte dal palazzetto dello sport e arriva ai confini del nostro comune, quasi lì con Monsampolo. Il percorso per pedoni piace soprattutto agli anziani che di prima mattina popolano la zona. Il luogo per noi che andiamo con la bici è molto utile, è comodo, c'è il sole, possiamo fare un po' di ginnastica per noi anziani. L'oasi Lavalle non è solo piste ciclabili, bensì orti gratuiti per gli anziani, un centro di educazione ambientale con aule verdi per accogliere scolaresche, una mostra di animali imbalsamati e un museo allestito all'interno della casa colonica della civiltà contadina, ricostruita a una vera e propria casa del secolo scorso. L'ala faunistica è arricchita dal centro di recupero per animali selvatici. Centro d'accoglienza, degli animali che sono feriti per incidenti, per qualsiasi motivo che vengono raccolti dalla popolazione, poi la polizia provinciale provvede a recuperarli e portarli qui. Noi vediamo di curarli al meglio e una volta ristabilite le condizioni vengono reimmessi sul territorio, nel luogo dove sono stati catturati. E le scolaresche sembrano andare a nozze con Daini, maialini, capre e paperelle, tanto che già fioccano le prenotazioni per la prossima primavera.